Studia canto e pianoforte da qualche mese, ha partecipato, questo lo aggiungo io, all'anno scorso al Festival di Ostia, andando poi a Seremo Lab. Il pezzo è di Anouk, Nobody's Wife. Grazie, grazie a tutti. 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 Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.